Sì, sì, sì. Siamo usciti a chiudere l'attaccomia, l'attacca, dottore. Vuole metterla su bene? Siamo usciti a l'abrile. E l'ottore, cosa vuole chiamare il bordo? L'abbiamo fatta anche l'altra volta. Dottor Badari, dottor Badari. Siamo usciti a chiudere il bordo. Siamo usciti a chiudere il bordo. Siamo usciti a chiudere il bordo. Grazie a tutti.